Buonasera a tutte e a tutti, cominciamo questa presentazione, vi ringrazio di essere qui e soprattutto ringrazio Raffaella Morsali che viene direttamente da Roma e a Roma ripartirà subito dopo questa presentazione, ma ha voluto tener fede a una promessa che gli avevamo chiesto di farci, quando in occasione della sua ultima presenza a Cento, proprio per parlare della situazione nel Casino Ludovisi e della bellezza degli affreschi del Guercino in Casino Ludovisi, ci promise che avrebbero presentato qui questo bellissimo volume che nasce come numero monografico della prestigiosa rivista Storia dell'Arte, che è una delle riviste scientifiche più importanti d'Italia, direi anche d'Europa sicuramente, e questo volume è il frutto di tutta una serie di ricerche che ben 16 studiosi hanno voluto dedicare al Casino Ludovisi, ma non solo, anche alla presenza di Guercino a Roma, ai suoi rapporti con la committenza, e non voglio dire nulla per non rubare spazio ai tanti relatori di questa sera. Solo una riflessione, Guercino torna da Roma nel 1623, probabilmente alla fine dell'estate, dopo che il suo punto di riferimento fondamentale che era il Papa muore, e proprio alla fine dell'estate, speriamo, proprio nei primi giorni dell'autunno forse, tornerà Guercino nella sua pinacoteca. Quindi sembra che proprio questi 500 anni vengano a chiudere un ciclo molto importante. E questa sera parleremo proprio dei due anni di soggiorno di Guercino a Roma, tra il 1621 e appunto il 1623, e della rilevanza di quell'esperienza. Guercino aveva 30 anni, parte, rimane due anni, incontra personaggi che questo libro ci ha rivelato anche essere inaspettatamente in contatto anche molto stretto con Guercino, perché coabitavano, perché lavoravano insieme, e vedremo che tutta questa ricchezza enorme di esperienze, oltre alla possibilità di realizzare opere molto importanti, sono sicuramente, come tutti hanno riconosciuto, esperienze di grande trasformazione. Però Guercino torna, e qui siamo proprio vicino ai luoghi per i quali torna. A pochi metri da qui c'era la sua scuola, quindi il luogo che amava e che condivideva con i suoi allievi, c'era la sua casa, c'erano i suoi affetti, c'erano i luoghi nei quali aveva già lavorato, e tra questi ricordo Casa Provenzali, che proprio l'11 dicembre apriremo al pubblico, grazie alla disponibilità della famiglia Benazzi, per condividere con la cittadinanza la contemplazione di questo luogo così bello, che segna così bene la sua presenza. A Casa Provenzali c'è probabilmente quello che è il primo ciclo affrescato di Guercino, quindi il suo debutto come frescante, e quindi da lì inizia una storia, che trova il suo apogeo naturalmente nel Casino Ludovisi, e poi che avrà un proseguo anche a Piacenza. La vicenda che viene raccontata oggi è un intreccio di sguardi, importantissimo tra gli storici dell'arte e anche i tecnici che hanno analizzato la tecnica del Guercino. Quindi questo libro è veramente molto arricchente, ma l'ultima cosa che voglio dire è che è anche una strenna, oltre a essere un libro densissimo di significati, unisce un aspetto che spesso oggi nei libri di storia dell'arte non c'è più, cioè quello di una qualità eccezionale delle immagini, di una grande bellezza dei dettagli, che ci fanno veramente vedere un Guercino meraviglioso. Buon ascolto, passo la parola alla professoressa Morselli, che è sempre molto cortesemente con noi. Grazie mille. Allora sto anch'io in piedi perché così ci vediamo. Ringrazio Cento e tutte le persone che ci seguono sempre con grande affetto e con grande devozione al Guercino, al nostro pittore preferito. Certo, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera a presentare questo volume monografico della rivista Storia dell'Arte, che ho curato assieme a Barbara Gelfi e a Daniele Benati, e altri, in tutto siamo 22, quindi l'abbiamo fatto in 44 mani questo volume, come i 44 gatti dello Zecchino d'Oro. È un volume che abbiamo fortemente voluto e che alla fine di questa storia si salda con l'inizio di una vicenda che ha due capi. Da una parte le indagini diagnostiche che Barbara Gelfi e il suo gruppo di ricerca cominciò nel 2019 e nello stesso istante la valutazione che il professor Zuccari, coadiuvato da me, fece degli affreschi e di tutta la decorazione del casino Ludovisi. Bene, questo volume salda questi due capi. Li salda perché attraverso tutte le indagini diagnostiche, ma anche storico-artistiche, storico-critiche, più a macchia d'olio che si sono allargate attraverso l'analisi di Guercino a Roma, dei suoi compagni, del perché arrivò, del perché se ne andò, di che cosa c'era con chi lavora a Roma in quegli anni, chi incontra e soprattutto come arriva a Roma, ecco tutto questo è riversato in questo volume e va a tenere assieme questi due capi di cui vi parlavo prima. Cioè, vista adesso, questa operazione ha un senso e ha una sua compiutezza. All'inizio siamo partiti da punti di vista che sembravano lontani, una valutazione e un'analisi diagnostica. Arrivati a questo punto, con l'esito di questo volume, abbiamo ben chiaro che questo progetto si è compiuto e che sappiamo qualcosa di più, sia di Guercino, sia di Guercino a Roma, sia della metodologia con cui Guercino affrontò questo lavoro importantissimo per la sua carriera. Diceva Claudio Strenati due settimane, anzi forse la settimana scorsa, quando l'abbiamo presentato questo volume ai Musei Capitolini, ovviamente sotto la grande pala della Santa Petronilla, il motivo per cui Guercino arrivò a Roma per dipingere la Santa Petronilla, la pala in San Pietro dedicata al suo protettore, che era Gregorio diventato papro, Gregorio XV, Alessandro Ludovisi. Bene, diceva Claudio Strenati, guardando l'aurora, che non so se sta passando dietro, che è tutto un racconto di donne. È vero, non ci eravamo accorti, neanche in questa indagine pazzesca che abbiamo fatto per gli studi in questo volume, non ci siamo resi conto che in effetti è una storia di donne, perché la notte è una donna, l'aurora che arriva è una donna, e tutte accendono, spengono il lume. Come mai? Come mai? Su questo dobbiamo riflettere. Però certo, una vita muliebre raccontata da un pittore che non aveva, o perlomeno non sappiamo, se avesse molta confidenza con il genere femminile, se non con sua madre e le sue sorelle, ecco. Però certamente è bizzarra questa vicenda, nel piano inferiore di questa magnifica aurora il racconto è tutto declinato al femminile, mentre nel piano superiore, che pure la fama anche lì ovviamente, ma questo per motivi iconografici e femminili, si scontra con questo super virile Nettuno di Caravaggio. Quando Guercino arriva, Caravaggio ha già dipinto questo piccolissimo, piccolissimo, veramente un piccolissimo stanzino che è adiacente alla grande fama. Quindi certamente Guercino guarda questo Caravaggio, lo guarda però come chi guarda qualcosa che in fondo gli è abbastanza alieno, perché quello che Guercino fa qui a Roma è di tutt'altra natura. Guercino arriva da cento, è un pittore già di fama, ha trent'anni, e qui abbiamo chiesto di indagare su chi accompagnava Guercino, sappiamo che viveva con lui un gruppo di persone che lo accompagnava, che arrivavano da cento, e quindi abbiamo chiesto a Enrico Ghetti di indagare sui compagni di stanza di Guercino, perché lui arriva con un gruppo di centesi e si mette in camera e in casa, affittano una casa e vivono tutti assieme. Quindi è chiaro che lui ha una sua identità fortissima, non intende tanto mischiarsi con le persone di Roma o con tutti questi forestieri che vanno e vengono, non li si può dar regola. Lui vuole assolutamente mantenere la sua identità. E però certamente per Guercino Roma è una specie di luna park, che quando arriva si ritrova, soprattutto nel cantiere del Casino Lutovisi, si ritrova a lavorare in un cantiere che è già aperto. È un cantiere già in funzione, è un cantiere già improntato, alcune decorazioni sono già eseguite e si ritrova a misurarsi con un direttore dei lavori, che è uno dei pittori più afformati che c'erano a Roma in questo momento. Ecco che allora abbiamo chiesto a Patrizia Cavazzini di indagare, che è uno specialista del tema, su Agostino Tassi in un saggio che lei ha intitolato Agostino Tassi tra il carcere e la committenza Lutovisi. Esatto, perché il carcere? Perché in quegli anni lì Agostino Tassi finisce in carcere. Ve lo ricorderete Agostino Tassi? È il famoso stupratore di Artemisia Gentileschi. Bene, è il pittore che nei palazzi romani in questo momento sta dipingendo tutti gli sfondati, cioè tutte le prospettive architettoniche li dipinge Agostino Tassi. Ma soprattutto per Gregorio XV e per il cardinal Ludovico Agostino Tassi ha in mano la gestione, la decorazione di tutta la palazzina. Quindi Quercino per forza di cose si misura con Agostino Tassi, che sarà colui che lo paga, colui con cui entra in rapporto diretto. Ma Guercino non si fa intimidire, giustamente. Sa che deve lavorare velocemente, quindi poi Barbara Gelfi vi spiegherà come lavora Guercino, Chiara Matteucci vi spiegheranno come ha lavorato Guercino, ma è molto chiaro che nella sala, al piano inferiore, che è quella della fama, scusate dell'aurora, si ritrova con un'architettura che è già impostata dai Costino Tassi e inventa una cosa meravigliosa, perché nella notte rompe l'arco architettonico. Loro hanno scoperto attraverso le indagini diagnostiche questa invenzione meravigliosa di Guercino, un arco che è già disegnato, che è già tracciato e che viene sfondato completamente da questa aurora che entra dentro la notte. Quindi Guercino non si fa intimorire da questa superstar del partito architettonico. tira fuori questa vena romantica, paesaggistica, che guarda addosso Dossi, guarda la sua cultura, la cultura neanche bolognese, ha la cultura ferrarese, è una cultura molto chiara, c'ha addosso negli occhi. Dosso è un'altra cosa che ha scoperto Giulia Iseppi, che in fondo, non so se la possiamo vedere qua, però gira a loop, quindi non credo che non la possiamo vedere, che la scena, quella della notte, dove c'è questa figura malinconica che medita con la civetta vicino, bellissima, i pipistrelli che volano, è una citazione da Domenico Fetti. In fondo, Guercino era stato poco prima a Mantua e aveva consegnato dei quadri per Ferdinando Gonzaga, quello bellissimo che sta a Birmingham, e quindi deve aver visto questo quadro, che era notissimo ed è stato poi replicato in infinite varianti, della melanconia di Domenico Fetti, di cui abbiamo due versioni sicuramente autografe, una a Parigi e una a Venezia, le gallerie dell'Accademia. Quindi Guercino ci mette tutta la sua cultura che va tra delle corti padane dentro quell'aurora e sa che è quello il suo capisaldo, è il momento in cui lui deve dimostrare a tutti questi grandi pittori che girano per Roma, Agostino Tassi, ma anche Pomerancio, che aveva appena dipinto un bellissimo giro di Putti della Sala dei Paesaggi, che poi vi spiegherà Pasquale Stenta, che ha studiato questo argomento e sa che non si deve fare intimidire, che può andare avanti dritto per la sua strada e quello che inventa è veramente qualcosa di assolutamente nuovo. Assolutamente nuovo, ma anche di grande effetto, lasciatemelo dire, emotivo, è un grande effetto affettivo, quasi una sorta di contatto diretto visivo con la sua terra d'origine. Non gli interessa nulla dell'antichità classica che girava per Roma, di quello che poteva vedere al di fuori nel giardino del Casino Ludovisi, ma quello che gli interessa invece è trovare una continuità spaziale tra l'interno e l'esterno e infatti in questa aurora c'è questo bellissimo viale con i cipressi che fanno riferimento ai cipressi e al viale che stava lì fuori. Quindi ci deve essere una sorta di continuità tra l'interno e l'esterno, c'è una narrazione continua dentro questa aurora. Tutto cambia quando va al piano superiore, ovviamente. Al piano superiore invece Cecilia Paulini ha studiato le ascendenze iconografiche di questa fama, che cosa significa questa fama e ancora lì si ritrova a inserirsi nell'architettura di Agostino Tassi. Un'altra architettura molto geometrica, molto ricca anche, ma di cui di nuovo non si fa intimidire e va avanti per la sua strada, che non è più la vena naturalistica che abbiamo nell'aurora, ma invece è lì la parte più importante, la parte politica, perché lì deve trovare il modo per esaltare la gloria dei Ludovisi, del suo papa Gregorio XV e del suo committente Ludovico. Quindi Guercino si misura con un aroma multiforme, ma si misura anche con la collezione, perché in questa collezione c'erano i Fab Four della pittura classicista e anche della pittura bolognese, perché i Ludovisi avevano nella loro collezione Guercino, Domenichino, Guidoreni, gli mancava Albani, Albani era tornato, da Roma si era ritirato su Bologna. Quindi di quattro Fab Four che Malvasia cita come ci vogliono quattro per fare un Annibale Carracci, di questi quattro i Ludovisi ne avevano esattamente tre. Quindi Guercino si ritrova a lavorare per un committente che ha una collezione meravigliosa, ma che ha una collezione che lui conosce, perché conosce, perché le cose che vede le aveva già viste a Ferrara, alcune, perché i pittori che vede sono Tiziano, sono Dosso Dossi di nuovo, sono Guido, sono Domenichino, sono Paul Brill con cui lavora e Viola. Giovanni Battista Viola è un personaggio cardine, insomma si ritrova in un ambiente romano, ma con dei bolognesi che lui conosce molto molto bene. Uno di questi è Valesio. con Valesio, pittore di Bologna, che più che pittore suonava la viola e che era molto nelle grazie della moglie di Orazio Ludovisi, che aveva un'altra corte pure a Roma, faceva il guardarobiere maggiore del cardinale. Significa che lui aveva le chiavi di tutti i tesori della villa. Per tesori intendiamo gli argenti, gli ori, le posate, le tovaglie, i vestiti. Il guardarobiere maggiore era un bolognese e con cui Guercino aveva una conoscenza, lo sappiamo bene, perché l'aveva già conosciuto a Bologna e si ritroveranno poi a lavorare quando Gregorio sarà morto e quando anche Ludovico non tornerà più da Roma, però si ritroveranno a lavorare assieme nella chiesa di San Pietro vicino peraltro alla chiesa alla casa di Bologna dove Guercino andrà a vivere dopo il 1642. Quindi diciamo che c'è una traiettoria che segue Guercino attraverso questi personaggi che lui incontra a Roma, non abbandona nessuno, li ritrova, se li ritrova dietro anche se Gregorio XV è morto, se Ludovico non tornerà più su Roma, se i ludovisi abiteranno in modo definitivo a Roma e non avranno più il palazzo, nemmeno il palazzo a Bologna. Eppure però questo valesio, questi suoi contatti romani li ritrova anche nel corso degli anni a Bologna. Quindi Roma gli rimarrà nelle corde, rimarrà con lui e una Roma in cui lui avrebbe potuto investire moltissimo. Eppure morto il Papa decide di ritornare indietro. Avrebbe dovuto fare, secondo le fonti, questa loggia per 10.000 scudi. Questo lo sappiamo dalle fonti, non abbiamo trovato nessun documento che ci attesti questo. La loggia non c'è, probabilmente forse gli era stata veramente promessa, ma certo è che consegna questa pala che è un capolavoro, che è la Santa Petronilla, è un capolavoro di prospettica, è un capolavoro di invenzione, di colori, di magia pittorica, di luce e di ombre, che oggi si trova alla Pinacoteca Capitolina, ma che era stata dipinta per San Pietro. Quando il Papa muore, Guercino si ritira con tutti i suoi, chiude casa a Roma e si ritorna a Cento. È interessante questa vicenda, che Guercino si muova sempre con la sua compagine di compagni centesi. Lui si fida dei suoi, in fondo lavora con tanti altri, ma si fida soltanto dei suoi, delle persone che stanno assieme a lui. Quindi questo volume è costruito come un, vi dicevo prima, si allarga a macchia d'olio, perché è un volume che si divide praticamente in tre parti. La prima, che è dedicata al pittore, ai suoi committenti. La seconda, agli apparati decorativi veri e propri, quindi, poi vi parlerà Pasquale Stenta e Giacomo Alberto Calogero della Fortuna Cricket che cade l'Aurora, ma ci sono anche tante novità. Per esempio, Francesco Gatta, studiando il lunetta di Domenichino dei paesaggi e lunetta di una di Domenichino e una di Viola, ha trovato un disegno che è dipinto da una parte da Domenichino e una parte da Viola ed è preparatorio per una di queste lunette della stanza dei paesaggi di cui non anticipo niente, Pasquale non dico nulla. La seconda parte sono appunto gli apparati decorativi dove ci sono delle lunghi saggi saggi scheda di Giulio Eseppi sull'Aurora e di Cecilia Paolini sulla Sala della Fama e poi ci siamo chiesti anche che memoria aveva lasciato nei viaggiatori e in coloro che potevano entrare, avevano accesso al casino. Ed ecco che allora Ilaria Mearelli Mariani ha scritto una fortuna visiva dei dipinti di Guercino nella Villa Ludovisi attraverso tutte le stampe e anche questa ci sono delle interessanti considerazioni. Ovviamente del gruppo assieme a noi anche Cory Brennan che è uno storico ma che ha da sempre in carico l'archivio Ludovisi che sta depositato una parte nella villa presso gli eredi l'altra parte sta agli archivi vaticani e la terza parte che è quella di cui vi parberanno Barbara Gelfi e Chiara Matteucci che è il modus operandi di Guercino come lavorava Guercino e qui scopriremo che Guercino va di fretta va di fretta ha bisogno di finire velocemente il casino deve essere pronto e ha bisogno di trovare una sua tecnica che non può essere quella semplicissima ad affresco di cui abbiamo sempre pensato da questo volume non possiamo più dire l'affresco dell'aurora di Guercino non possiamo più dire gli affreschi del casino Ludovisi perché non vi spoiler non sono affreschi un'altra cosa invece che ci siamo chiesti nella prima sezione oltre a che rapporto aveva Guercino con i suoi committenti cioè con Ludovico e con il cardinale Alessandro che poi diventa papa c'è tutta una storia lunga questi viaggi che faceva Guercino per andare a cento da loro che lo avevano invitato a pranzo poi aveva mangiato una cosa col ghiaccio che lui non aveva mai mangiato gli era anche venuto in mal di pancia si era sentito male era così in imbarazzo in questo palazzo Ludovisi con questi committenti così importanti che gli facevano forse delle domande complicate che a cui lui che lo mettevano in soggezione e poi Daniele Benati si è chiesto l'impatto che ha avvenuto Roma su Guercino questo cambiamento di visuale per un pittore che pure era un grande pittore già formato però un cambiamento di visuale importantissimo perché Roma era veramente un grande ho detto prima un Luna Park sì c'era di tutto Roma si trovava una piramide di sfumature di pittori di tutti i tipi e anche una una città così multietnica dove si parlavano una babele di lingue peraltro quindi Guercino ha bisogno di stare con i suoi di trovarsi nella sua comfort zone nella sua casa nel suo appartamento con i suoi con i suoi amici vi ho già detto di dei compagni di stanza e di Agostino Tassi poi ci sono due saggi che sono quello di Laura Bartoni e di Caterina Volpi che si chiedono ma dentro questo casino che cosa c'era come era l'allestimento delle collezioni ludovisi come si snodavano le collezioni all'interno della palazzina e all'interno della casa del palazzo ludovisi perché erano due cose diverse i giardini ludovisi erano gli orti sallustiani era ancora standata la racconta di questa una delle cose più belle di Roma erano i giardini del palazzo ludovisi che prendevano tutta quell'area dove adesso abbiamo avuto quello sventramento di fino a 800 che è via Veneto ecco lì c'erano tutti gli orti sallustiani quindi questo casino stava in una specie di balcone meraviglioso che guardava queste colline questi prati questi viali alberati dove c'erano puntellati qua e là tutta la scultura antica della villa e in più c'era una collezione pazzesca di pittura moderna e contemporanea quindi vedete che in fondo Caravaggio che se ne stava là in uno stanzino forse chiuso non aveva quella importanza quella ricaduta così forte sulla villa sulla collezione e sui pittori che vi lavoravano lì quindi Laura Bartoni ricostruisce attraverso gli inventari la disposizio di questa collezione bene nella stanza dell'aurora al secondo piano scusatemi della fama al secondo piano era quella più citata adesso ve lo racconterà Calogero era quella più citata perché lì ci stava un oggetto particolarissimo ve lo dici tu dopo sì no no te lo lascio a te questo c'era un oggetto particolarissimo e tutti i visitatori andavano a vedere quello quindi è più citata la fama che non l'aurora e questo delle fonti emerge molto chiaramente però appunto non voglio bruciare quello che altri hanno studiato e hanno scoperto quindi lascio la parola a Pasquale Stenta e poi a Giacomo Alberto Carogero ma prima mi avete detto Pasquale Stenta grazie buonasera buonasera a tutti grazie dell'introduzione e io recupero un attimo le slide che ho ecco appunto io mi ricollego in realtà a quello che diceva la professoressa Morselli quindi a questa continuità che c'era tra gli apparati decorativi interni e i giardini dell'esterno perché appunto il contributo sulla stanza dei paesaggi in realtà prende le mosse proprio dal cantiere dei giardini di questi orti sallustiani che il cardinale Ludovico Ludovisi stava facendo riqualificare da una squadra governata da Carlo Maderno che fa questi appunto progetta questi giardini scenografici che dovevano fare da cornice a una parte della collezione dei marmi del cardinale le fonti ad esempio gli atti di pagamento citano un bosco segreto in forma di labirinto qui c'è un ricordo di un'incisione del falda che ci restituisce un po' l'idea di quello che doveva essere il giardino meraviglioso del cardinale Ludovisi quindi poi il viale di Cipressi di cui appunto parlava prima la professoressa Morselli tutto questo per dire che l'elemento naturale nella concezione di villa pontificia anche per Ludovico Ludovisi aveva una valenza fondamentale e non a caso uno di questi ambienti della villa un interno della villa cioè la cosiddetta sala del caminetto una praticamente una saletta più piccola adiacente al più grande salone dell'Aurora era destinata a secondo Laura Bartoni anche che analizza l'allestimento era un luogo di riposo riposo dalle occupazioni politiche destinata allo svago all'ozium e quindi non è un caso che proprio questo ambiente fu decorato da questo freggio con quattro riquadri con scene di paesaggio e una finta cornice dipinta ed architettura da Antonio Pomarancio a proposito di questo durante gli studi si ragionava anche con Francesco Gatta del perché fosse stato chiamato Pomarancio non ci sono testimonianze sicure probabilmente tassi era impegnato effettivamente negli altri nelle altre sale è stato fatto che Pomarancio dipinge questo oculo illusionistico con questo giro di putti questo ballo di putti centrale e i quattro angoli la finta architettura con lo stemma dei ludovisi dei puttini negli angoli viene completata questa cornice attorno al 1621 in modo tale da permettere poi ai quattro paesaggisti di completare i quattro riquadri ai piedi della volta Pomarancio viene liquidato con un pagamento di 80 scudi soltanto nel 1624 e questo pure risulta da atti di pagamento noti già da tempo e per la prima volta il Passeri che ci dice che questi quattro paesaggi erano stati dipinti da una squadra di decoratori che erano ben noti alla famiglia ludovisi cioè si trattava di Paul Brill Domenichino Giovanni Battista Viola e quindi il Guercino si trattava di tutti gli artisti che avevano avuto familiarità con la famiglia ludovisi e soprattutto in particolare Paul Brill era uno dei più grandi paesaggisti allora attivi a Roma era stato chiamato dalle principali famiglie pontifici aveva lavorato in grandi cantieri papali nelle delizie che avevano preceduto la villa ludovisi quindi diciamo che lui era una presenza obbligata per il cardinale e Paul Brill è autore di questo bellissimo paesaggio con mulino inviandanti ora si tratta di un apparato decorativo che chiaramente messo a fianco all'aurora molto spesso passava in sordina non solo per la grandezza appunto dei metri quadri delle volte e per la fame e la notorietà che avevano gli altri dipinti murali del guercino ma forse anche ripeto per questa questa destinazione privata che aveva la sala del camminetto oggi nota come sala dei paesaggi ora a proposito di questa sala già scriveva Carla Hendrix ci diceva ci faceva notare una cosa importante cioè una presenza costante in tutti e quattro i dipinti torno un attimo indietro in tutti e quattro i dipinti la presenza costante dell'acqua ora partendo da questa idea sempre grazie a Francesco Gatta di cui abbiamo parlato a lungo di questo tema si è capito che questo freggio va letto in senso anti-orario cioè partendo dal riquadro del Brill che è il primo riquadro che si vede entrando nella stanza quindi aveva la posizione d'onore Brill che era il più anziano il più affermato dei paesaggisti forse anche non forse il più amato perché c'era anche Domenichino a lavorare con lui e appunto si procedeva leggendo dal primo di Brill quindi dalla sorgente d'acqua che scorre su queste rocce in questo paesaggio selvaggio in per secondo quindi sempre in senso anti-orario quello del Viola quindi il corso d'acqua che fluisce che scorre tra le montagne di questo paesaggio arcadico e continua in quest'altro di Domenichino quindi nel terzo riquadro dove appunto il fiume inizia a cadere in una piccola cascata si inizia a entrare in un paesaggio più urbano ci sono dei ricordi chiaramente rimaneggiati dal Domenichino di Roma di alcune che possono rimandare comunque all'ambiente urbano e per ultimo quello straordinario del Guercino dove questo corso d'acqua che era nato nel paesaggio di Brille che vi ho fatto vedere all'inizio finisce nella veduta nei giardini proprio di Villa Ludovisi cioè anche in questo caso Guercino come aveva fatto nell'Aurora con citando il viale dei Cipressi che era all'esterno anche in questo caso dipinge un pezzo dei giardini di Villa Ludovisi sono riconoscibili benissimo nel portico ad esempio della Villa in questo piccolo brano con una fontana ora questa presenza dell'acqua in tutti i cantieri pontifici aveva una valenza simbolica molto forte l'acqua ha di per sé iconograficamente iconologicamente parlando un valore salvifico nel senso che anche prendendo le scene di battesimo di Cristo ricollega il potere salvifico dell'acqua direttamente a Cristo alla fede a Dio e questo a livello propagandistico aveva una valenza forte anche nel fregio della sala dei paesi perché in questo modo come era stato fatto negli altri cantieri papali ad esempio dei Peretti o anche dei Borghese l'acqua comunava direttamente la nuova famiglia salita al soio pontificio direttamente a Cristo ma nel racconto di questo paesaggio quello che ovviamente stupisce di più è proprio quello del Guercino cioè prima si faceva riferimento a questa grande competizione del Guercino con questi altri grandi giganti della pittura Guercino in questa sala è il terzo bolognese che dipinge cioè accanto a Domenichino e Viola si trova ad affiancare Brill per Malvasia addirittura era una competizione Guercino doveva mettere mano a questo paesaggio per dimostrare le sue doti al cardinale Ludovisi che in realtà le conosceva molto bene probabilmente Malvasia aveva ragione nel dire però che era il suo primo lavoro alla villa Ludovisi anche perché Malvasia era informato su quello che accadeva a Roma aveva una corrispondenza con Grimaldi e quindi è probabile che sia stato informato appunto di questa scansione cronologica questa vena tra l'altro diciamo di questa cronologia dà un'idea una testimonianza anche chiaramente la poetica di questo paesaggio è un paesaggio fortemente naturalista un paesaggio in cui Guercino ricorda comunque tutte le sue esperienze centesi un paesaggio che a differenza degli altri è molto legato alla vita quotidiana alla vita vera alla vita di quella che era una delle corti pontifici una di quelle delizie pontifici più importanti allora creati appunto dai Ludovisi e ci dà una testimonianza anche molto divertente su le macchine scenografiche che venivano installate in questi giardini cioè giardini che avevano una tradizione che risaliva quantomeno alla fine del Cinquecento a Roma per come lo stiamo intendendone adesso e questo dettaglio ci è offerto appunto vi dicevo da questa corte questo piccolo gruppetto di gentildonne ai piedi di questa fontana loro sono colte in un momento di come dire di stupore sono impaurite stanno scappando da questi giochi d'acqua che si trovano ai loro piedi ora in altre ville romane pontifice tra cui anche quelle dei peretti esistevano dei meccanismi che venivano montati nei pavimenti nel terreno con la pressione del corpo partivano questi scherzi d'acqua che erano fatti apposta per divertire gli ospiti e i cortigiani che frequentavano questi ambienti quindi il guercino fotografa perfettamente quello che era la realtà a lui contemporanea una realtà che doveva conoscere una realtà che comunque celebrava in qualche modo questa villa come nuovo centro di aggregazione dell'elite romana dove ad esempio ancora sull'altro versante ci sono questo uomo con queste altre dame presi in questo dialogo tra di loro quotidiano una di loro addirittura si gira verso la bambina per rimproverarla o per tenerla lontana dal laghetto insomma ha una vena guercino che è quella della sua terra insomma una vena un po' più giovanile rispetto poi agli esiti che avrà ad esempio nel salone di rappresentanza ecco questo è un po' il panorama generale di questo di questo fregio e delle sue valenze simboliche e politiche e io non vado non vado oltre e vorrei dare la parola a chi doveva venire dopo di me Giacomo ok che non vedo più ok grazie grazie salvo va benissimo buonasera a tutti io non ho un powerpoint però magari posso approfittare di questa immagine di cui accenderò anch'io oppure si potrebbe tornare a a quella sorta di screensaver sì sì allora intanto io ringrazio naturalmente il curatore Daniele Benati e le altre due curatrici la professoressa Raffaella Morselli e la professoressa Barbara Gelfi per avermi invitato a partecipare a questo volume molto importante su uno dei dipinti più famosi del 600 europeo direi un dipinto più dipinti in realtà uno delle imprese pittoriche più importanti del 600 europeo si sente bene sì mi era stato affidato lo dicevamo proprio in macchina venendo qui da Bologna un tema che sulle prime mi aveva non lasciato scettico perché ci mancherebbe però un po' impaurito sì perché mi era stato detto caro Giacomo occupati della fortuna dei dipinti querciniani nel casino Ludovisi che capite bene che dire tutto nel senso che mi chiedevo trattandosi di un capolavoro così noto che cosa potrò mai aggiungere farò una lista di fonti della letteratura artistica che hanno citato questo capolavoro in realtà mi sono trovato a riscoprire come se poi non lo sapessi già però le cose si scoprono di nuovo rifacendole sempre di nuovo che alla fine le fonti le fonti della letteratura artistica continuano ad essere per noi storici e storiche dell'arte uno strumento fondamentale da cui ripartire sempre perché anche le fonti più note anche gli scrittori più noti anche sulle opere più note dicono sempre tra le righe qualcosa di nuovo qualcosa che ce l'ha sfuggito quindi non pretendo di aver scritto chissà cosa nel mio testo però credo che mettendo in fila tutte le citazioni principali naturalmente non tutte in assoluto perché avrei occupato altrimenti tutto il volume è solo credo di aver potuto sottolineare alcuni passaggi importanti che poi sono di fatto diventati punti fondamentali anche per la critica moderna cioè la cosa che sorprende nel leggere le fonti antiche è che spesso se le si sa leggere se le si sa leggere tra le righe soprattutto si possono trovare molti spunti e Roberto Longhi nel novecento ce lo ha insegnato rileggendo spesso Lanzi Valvasia lo stesso Vasari che ovviamente con Guercino non c'entra o l'ultima potremmo dire delle fonti della letteratura che è anche però in qualche modo un patriarca della storia dell'arte come Cavalcaselle ecco Roberto Longhi ci insegnava che a rileggere queste fonti i loro giudizi spinge insomma a rinnovare anche la critica moderna e quindi mi sono ritrovato a riscoprire nei vari passaggi della letteratura artistica molti punti che poi di fatto sono riemersi negli studi e anche negli studi recentissimi pubblicati in questo in questo volume sul Casino Ludovisi a partire dalla prima fonte che ci descrive di fatto o meglio che ci descrive e ci accenna i dipinti del Guercino nel Casino Ludovisi cioè le considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini questo importantissimo testo di questo medico senese amatore d'arte che nel 1621 voi saprete tutti che Guercino si trasferisce a Roma appunto proprio nel 1621 quindi potremmo dire in presa diretta Giulio Mancini che era veramente un appassionato d'arte che evidentemente si aggiornava continuamente cita alcune in questo manoscritto cita alcune cose private si sono viste in Roma alcune cose private del Guercino che hanno gran forza di colorito e di disegno ora è chiaro che queste cose private non possono essere che le prime imprese che Guercino compie non tanto nelle chiese poi Guercino nel suo bienio romano realizzerà per nirne una il seppellimento di Santa Petronilla per San Pietro quindi anche importanti opere pubbliche alla volta della chiesa di San Crisogono eccetera però le prime imprese sono in effetti cose private come dice Giulio Mancini cioè le cose per i palazzi per Palazzo Costacuti per esempio per Palazzo Lancellotti e ovviamente per il Palazzo Ludovisi per il Casino Ludovisi e quindi la prima testimonianza tra le righe della presenza del Casino Ludovisi degli affreschi degli affreschi dei dipinti murali di Guercino nel Casino Ludovisi la ritroviamo già nelle considerazioni di Giulio Mancini e Giulio Mancini quando utilizza per esempio questa formula che sembra un po' una formula rituale il gran disegno e il gran colorito in realtà utilizza esattamente la stessa espressione di questo mi sono accorto che pochissimi anni prima aveva utilizzato il grande Ludovico Carracci per descrivere proprio le opere del Guercino cioè Ludovico Carracci che conoscete tutti il grande cugino di Annibale e di Agostino che di fatto è quasi il maestro in assenza di Guercino nel senso che Guercino non fu mai un allievo di Ludovico ma ne fu un grande stimatore come saprete benissimo e Ludovico ricambiò questa stima e con il 17 scrivendo ad un amico Ludovico scrive appunto che Guercino era un mostro di natura dovete stare attenti a questo giovane io con Ludovico devo essere ben consapevole di essere alla fine della sua vita sarebbe in effetti morto di lì a poco dovete stare attenti a questo giovane mostro di natura che ha un gran disegno un gran colorito ecco e mi ha colpito che proprio due anni dopo due o tre anni dopo Giulio Mancini nel descrivere le cose private di Guercino a Roma in particolare evidentemente i dipinti che lui doveva aver visto anche nel Casino Ludovisi utilizzi esattamente lo stesso giudizio le stesse parole di Ludovico Carracci e non a caso perché sempre nelle considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini si ritrova un accenno molto importante in cui Giulio Mancini dice di aver parlato del Guercino proprio insieme a Ludovico Carracci quindi evidentemente Giulio Mancini non utilizza questi giudizi queste frasi a caso ma riporta un giudizio che aveva sentito si proferire da Ludovico evidentemente Ludovico doveva aver detto con lo stesso entusiasmo anche a Giulio Mancini le stesse cose che aveva riferito all'amico Ferrante Carli cioè guarda che questo giovane di Patria Cento si contraddistingue per questi doti di coloritore e disegnatore formidabile però evidentemente mi dico io Giulio Mancini aveva avuto anche la sensibilità di non riportare un giudizio di seconda mano ma di verificarlo sui dipinti del Guercino a Roma perché è molto importante capire e questa è quindi già una nota critica che emerge dalla primissima testimonianza della letteratura artistica che soprattutto l'aurora quindi il carro dell'aurora è tutto ciò che le consegue la notte il giorno insomma quello che un Guercino dipinge nella sala al pieno terra è più da considerarsi essendo anche una delle prime cose che lui effettivamente realizza a Roma dopo essersi trasferito da Bologna insomma da Cento e Bologna è più da considerarsi dicevo un appendice del suo primo stile emiliano che è una sua prima opera romana e certamente un'opera realizzata a Roma ma è più in linea con quello che lui aveva già fatto precedentemente durante la sua giovinezza che è con ciò che poi farà realizzerà nella stessa Roma e adesso questo vedrete che emergerà anche nel resto delle fonti comunque un'altra delle cose a cui accennava la professoressa Morselli è che poi nello scandagliare magari un po' noiosamente anche tutte le guide romane del Seicento si scopre un fatto curioso cioè che in realtà tra i vari dipinti che Guercino realizza nel Casino Ludovisi la più citata la più apprezzata almeno dalle guide romane dalle guide locali dagli scrittori locali di Roma del Seicento è per l'appunto l'Aurora si cita sempre e si elogia moltissimo la raffigurazione del carro dell'Aurora molto meno in realtà la fama dipinta al piano nobile mi ricordo anche che avevamo fatto insieme con la professoressa con Barbara con Raffaele e con altri studiosi che sono stati coinvolti in questo volume una prima riunione online in cui ci chiedevamo ma come mai queste guide si cita quasi sempre soltanto l'Aurora e molto poco la fama sarà forse che il piano nobile era meno accessibile in realtà no ed è un altro dei risultati del nostro volume il piano nobile era altrettanto accessibile veniva spesso citato in realtà nelle stesse fonti di più per citare e penso che si riferisse a questo la professoressa Morselli il busto di marmo di Gregorio XV del Cavaliere Bernino che naturalmente nel 600 a Roma era un idolo figurativo che tutti conoscevano e quindi tutti volevano andare a vedere in qualunque luogo si trovasse una sua opera questa tra l'altro è un'opera molto importante no ma anche quadri di Guido perché voi dovete immaginare questo casino in generale la Villa Ludovisi veramente come un paradiso terrestre con una collezione di quadri anche di antichità la famosa era Ludovisi per dirne una insomma l'Ermes Ludovisi quindi un vero museo a cielo aperto e anche al chiuso insomma perché c'erano tutti questi giardini con queste statue disseminate questa collezione di dipinti incredibile quindi il Guercino era soltanto uno degli aspetti che si andava a guardare naturalmente e anche per secoli peraltro nella Villa Ludovisi ecco venivano spesso citati in queste guide del 600 queste opere anziché la volta era come se si fosse troppo rapiti dalla collezione di dipinte di statue che erano collocate al pieno nobile e non si avesse neanche più la voglia di alzare la testa all'insù per guardare invece il magnifico soffitto del Guercino con questa allegoria della fama della famiglia Ludovisi naturalmente anche se probabilmente c'era anche una questione di gusto nel senso che viceversa gli scrittori settecenteschi tardo settecenteschi e quindi evidentemente già invaghiti di un gusto più neoclassico tendono a ribaltare il giudizio a citare di straforo l'aurora che evidentemente nel 600 era apprezzata di più per il suo carattere più fortemente barocco protobarocco rispetto invece alla più classicista fama capite che anche la grandezza di un artista come Guercino che noi tendiamo come spesso si fa a categorizzare la si misura anche sulla sua capacità invece di cambiare registro in pochissimo tempo in base anche allo spazio che ha da decorare quindi in realtà Guercino questo lo si capisce bene anche appunto leggendo tra le righe le fonti e la fortuna che nelle fonti hanno il piano nobile e il piano terra dipinge con due registri diversi la fama l'allegoria della fama e sotto invece la raffigurazione del carro dell'aurora seppur in tempi brevissimi quindi non a causa di un'evoluzione stilistica chissà quanto rapida ma proprio perché sa adattare a due ambienti diversi che evidentemente hanno anche due raffigurazioni diverse e due funzioni diverse un registro stilistico variato e questo vale anche per la stanza dei paesaggi di cui ci ha appena parlato Pasquale perché studiando un'altra fonte ovviamente fondamentale cioè Carlo Cesare Malvasia la felsina pittrice in questa striminzita biografia che lui sostanzialmente dedica a Guercino in cui a un certo punto si avvale anche di questo ristretto dei successi del Guercino che lui ricaverebbe da certe carte che aveva ottenuto chissà come dal fratello del Guercino stesso ecco Malvasia in questo resoconto delle prime imprese romane del Guercino ci dà anche questo diciamo un piccolo risultato emerso dalla mia ricerca tutta una serie di informazioni che pur scrivendo ovviamente Malvasia 50 anni dopo il soggiorno romano di Guercino ecco si sono rivelate molto molto precise in primo luogo come ha già accennato Pasquale la scansione temporale degli interventi che Guercino fa al Casino Ludovisi Malvasia dà un ordine preciso dei lavori che Guercino realizza all'interno del Casino e appunto sostiene che Guercino avrebbe prima dipinto il suo paesaggio nella stanza dei paesaggi di cui ci ha parlato per l'appunto Pasquale poi avrebbe dipinto l'aurora e solo in ultimo avrebbe dipinto l'allegoria della fama al piano nobile ora noi non abbiamo dei documenti precisi che ci confermino questa scansione però se vogliamo leggere lo stile effettivamente ci sembra molto chiaro e poi anche basta tutta un'altra serie di ragionamenti naturalmente l'organizzazione del cantiere eccetera non c'è soltanto lo stile ma lo stile potremmo dire corrobore a questa idea ecco è chiaro che il paesaggio con scherzi d'acqua che avete visto prima è molto legato ai freggi centesi che voi ben conoscete di casa Pannini quindi davvero quella stessa freschezza giocosa e sembra quindi appunto un appendice di queste imprese centesi quindi forse la prima cosa che Guercino fece peraltro Malvasia dice anche un'altra cosa molto interessante dice che Guercino era appunto in competizione con questi altri pittori il Viola Brill e Domenichino che questi tre pittori erano considerati dei paesisti effettivi dice lui cioè dei pittori di paesaggio di professione voi sapete che nel seicento la pittura di paesaggio è un genere molto preciso che ha dei professionisti insomma che si dedicano a volte specificatamente appunto pensate allo stesso Brill proprio quasi solamente alla pittura di paesaggio ecco e Guercino non sentendosi all'altezza o meglio non volendo competere sul piano della pittura di paesaggio to court si gioca la carta dello scherzo del comico dice Malvasia Guercino cercò di staccarsi dagli altri utilizzando idee molto curiose squadernando idee molto curiose e scherzose ecco come se avesse volutamente scelto un registro comico realistico appunto in linea con la sua provenienza emiliana con la sua tradizione di frescante accento dei fregicentesi piuttosto che mettersi sul piano della pittura aulica di paesaggio che è molto molto interessante come ragionamento ecco che appunto vi fa capire quello che vi dicevo prima che Guercino riesce ad adattare alla funzione e al contesto anche il proprio registro stilistico ma a proposito di dati diciamo tecnici cronologici c'è un'altra fonte molto importante che mi va di citarvi cioè la vita del Giovanni Battista Passeri in cui si legge molto chiaramente non tra le righe ma molto esplicitamente anche sull'informazione che stranamente poi insomma è passata per molto tempo sotto silenzio ecco nella vita di Giovanni Battista Passeri che a sua volta peraltro era un pittore era stato un pittore di un certo successo a Roma ecco non sempre diciamo generoso nei confronti del Guercino questa vita di Passeri non si leggono soltanto i loggi nei confronti del Guercino ma parlando proprio dei dipinti del Casino Ludovisi Passeri dice che furono dipinti a secco ed è un'informazione che evidentemente per secco con la parola secco Passeri ovviamente utilizza una terminologia tecnica molto sintetica poi la dottoressa Matteucci e la professoressa Gelfi vi spiegheranno meglio che cosa si intende però evidentemente Passeri che era un pittore che quindi doveva ben rendersi conto delle tecniche artistiche ecco non parla di a fresco parla specificatamente di una volta dipinta tutta a secco ecco un'informazione che peraltro non a caso verrà ripetuta qualche secolo dopo da Calvi da Jacopo Calvi che è un altro pittore che fu un altro pittore quindi casualmente due fonti che si occupano dei dipinti romani del Guercino due pittori che ci riferiscono la stessa informazione cioè che Guercino dipinse in realtà a secco un'altra cosa interessante tornando a Malvasia sempre da un punto di vista tecnico Malvasia a un certo punto parla delle quadrature architettoniche e dice mentre la quadratura architettonica della sala con l'allegoria della fama fu tutta compiutamente dipinta con diligenza con colonne ornate d'oro da Agostino Tassi giù cioè nella sala dell'Aurora ci dice Malvasia che appunto evidentemente doveva avere dei referenti molto attendibili per essere così preciso lui che invece pittore non era giù nella sala dell'Aurora dice Malvasia Guercino sul disegno di Tassi sostanzialmente dice così sbolse magnificamente la sua architettura e anche questo è tornato cioè è un risultato che di fatto è stato confermato dalle recentissime indagini diagnostiche come vi hanno già accennato prima di me e che però Malvasia conosceva un fatto che Malvasia in qualche modo conosceva cioè che Guercino nella sala al piano terra nella sala dell'Aurora si era permesso tra virgolette di utilizzare diciamo la tracciatura disegnativa di Tassi per svolgere autonomamente la propria architettura di tradurre in pittura autonomamente l'architettura trasfigurandola tra l'altro modificandola rispetto all'impianto disegnato da Tassi cosa che non avviene invece al piano di sopra dove è tutto Tassi a svolgere e realizzare Tassi e la sua bottega la quadratura e Guercino si occupò solamente di realizzare le figure quindi capite che nelle fonti si trovano già degli elementi che poi sono emersi anche in studi recentissimi la tecnica la cronologia il rapporto col quadraturista il rapporto con gli altri artisti attivi nel cantiere cioè tra le righe e naturalmente depurando i racconti della letteratura artistica da tutti quegli orpelli che potrebbero tutta prima far sembrare questi racconti verosimili si trovano informazioni molto importanti e verificabili diciamo anche dagli studi moderni e questo vale anche in qualche modo per quanto riguarda i giudizi critici più sottili più sofisticati passando a una fonte diciamo più moderna quasi alle soglie della modernità Luigi Lanzi nella sua storia pittorica ci dice qualcosa di altrettanto interessante che si aggiunge a tutte le informazioni di cui vi ho già parlato ecco Lanzi dice a un certo punto che certamente l'Aurora fu dipinta con uno stile molto simile allo stile tenebroso dei primi dipinti come diciamo peraltro prima come i primi dipinti emiliani del guercino ma che è già l'allegoria della fama al secondo piano dice Lanzi è dipinta nella sua seconda maniera romana adesso questo sembra una cosa detta così ma era di fatto Lanzi è il primo che si sappia nella letteratura artistica sul guercino a insinuare questa idea di una prima e di una seconda maniera cioè di più maniere del guercino dell'esistenza di più maniere del guercino e di una seconda maniera che guercino avrebbe sviluppato proprio a Roma e aggiungendo quello che in realtà scriveva già Baruffaldi proprio in competizione con i pittori che trova Roma cioè come se guercino aggiunto a Roma si sentisse in dovere di aggiornare il proprio linguaggio pittorico che fin lì gli aveva garantito un grande successo e di adeguarlo anche al gusto romano e quindi di sviluppare una nuova maniera una seconda maniera e di fatto questo è un elemento critico di vera e propria critica stilistica che poi è stato ampiamente sviluppato da uno dei più grandi se non il più grande studioso novecentesco di guercino cioè Denis Maun e Denis Maun ha scritto libri e articoli proprio per dimostrare questa mutazione della maniera di guercino a Roma adesso non mi voglio addentrare sulle teorie di Maun dentro le teorie di Maun o di Longhi insomma questo è un dibattito che prevederebbe una vera e propria conferenza e non è certo il caso però di fatto Maun riparte da Lanzi questo è importante dirlo non so quanto più o meno consapevolmente ma l'idea che il soggiorno romano di guercino abbia poi impresso anche una mutazione al suo stile alla sua maniera è un'idea che si ritrova già in Luigi Lanzi di fatto e tutto sommato anche leggere un grande scrittore dell'Ottocento anche quello che è stato anche quello è stato evocato cioè Stendhal che fu un grande amatore dell'Italia un grande amante di guercino un grande frequentatore della villa Ludovisi Stendhal nelle sue cronache romane proprio scrive nel suo libro dedicato proprio al suo soggiorno romano scrive di essere andato più e più volte in questo magnifico luogo a godersi i giardini le antichità romane ma anche i dipinti del guercino che lui amava saprete tutti che quando lui scrive il rosso e il nero Stendhal dice ecco il mio Julian Sorel deve essere come quando scrivevo il rosso e il nero pensavo che il mio protagonista dovesse essere come il Guglielmo d'Aquitania del famoso con la stessa irruenza con la stessa impulsività ecco Stendhal che non è proprio esattamente una fonte della letteratura artistica però un grande scrittore amante di guercino che dedica insomma delle righe molto importanti al guercino descrivendo proprio l'aurora dice una frase e scrive una frase che mi ha colpito e che infatti ho riportato nel mio saggio e sostiene questo dice ecco un guercino vedete è superiore a Raffaello che potrebbe essere insomma un giudizio anche un po' arbitrario perché tu guardando guercino ti deve venire in mente Raffaello però evidentemente sei a Roma a Roma è girato anche per le stanze vaticane per le chiese visto i grandi capolavori di Raffaello che nell'ottocento è ancora considerato molto più di oggi il centro della strada dell'arte il motore primo il motore immobile della strada dell'arte guercino è superiore a Raffaello perché sì certo Raffaello è il pittore della bellezza ideale ma oltre la bellezza estetica esiste un'anima e i mezzi della pittura per insomma descrivere i moti dell'animo sono il colore il chiaroscuro in questi aspetti guercino è superiore a Raffaello come è superiore a Guido aggiunge Stendhal perché di fronte alle opere di Reni e quindi sottointeso Raffaello tu hai improvvisamente hai di improvviso una bellezza suprema ma di fronte alle opere di Guercino alle donne di Guercino non vedi immediatamente una bellezza suprema ma scopri una verità soffermandoti andando oltre le apparenze estetiche una verità di cuore che gli altri due manca ora di fatto questa opposizione questa assimilazione di Reni con Raffaello e questa opposizione rispetto al modulo ideale dell'asse Raffaello-Reni che a tutti gli effetti è una sorta di Raffaello del Seicento ecco con invece l'irruenza protoromantica e protobarocca del Guercino è qualcosa che poi di fatto anche in questo caso è stata sviluppata dalla critica moderna ecco del perché Guercino cambia tecnica eccetera ecco ma soprattutto parla di questa irruenza romantica di questo stile volutamente l'uso il termine campagnolo io si istituito con pastorale questo stile pastorale che volutamente Guercino utilizza nel casino Ludovisi per opporsi invece all'aurora che lo precedeva quindi al grande modello che lui certamente ammirava ma dal quale voleva distaccarsi di Guido Reni quindi capite che probabilmente anche questa scelta di un registro diverso nella strada dell'aurora per Guercino nasce anche da una volontà di confrontarsi ma anche distinguersi dal grande modello che lo aveva preceduto in un altro grande casino romano cioè l'aurora di Guido Reni e poi naturalmente l'ultimo accenno e poi passerò la parola a Barbara che non poteva mancare nel mio saggio che appunto dedicato alla fortuna dell'aurora e in generale dei dipinti romani del casino Ludovisi di Guercino ecco non poteva che essere a Roberto Longhi a quella pagina fulminante che chiude l'officina ferrarese che si chiude per l'appunto con l'aurora Ludovisi con un dipinto del Guercino ed è una scelta niente affatto banale ecco perché naturalmente come sapete l'officina ferrarese era un testo che Longhi aveva scritto per recensire la famosa mostra del 33 di Barbantini in cui Guercino in realtà non c'entrava eppure Longhi dice la mostra si sarebbe dovuta chiudere con Guercino perché di fatto l'aurora Ludovisi per l'appunto non è ancora un'opera romana ma è l'ultimo tonante soffitto estense opera di un Guercino maculato bruscato per l'appunto romantico fatto di sentimenti fatto di chiaroscuro indivaco di gran macchia sotto l'arco di recato dice Longhi passa questo soffio scottante dell'antica Ferrara che partendo dalla Ferrara di Borso d'Est arriva appunto all'aurora Ludovisi ecco anche questa trovata insomma di Guercino come ultimo ferrarese come ultimo esponente dell'officina ferrarese è un'idea che verrà ripresa di fatto da Maun officina del 34 il famoso articolo note sulla giovinezza del Guercino di Maun del 38 se non sbaglio 39 insomma comunque pochi anni dopo officina ferrarese in cui Maun cerca anche grazie al ritrovamento delle pali di Renazzo di motivare le ascendenze ferrarese di Guercino ma di fatto è un'idea che pur come un lampo Longhi aveva fatto comparire proprio nell'ultima pagina dell'officina ferrarese in cui appunto la notte viene descritta come un'ultima negromante del Dosso cioè di Dosso Dossi che è il pittore che giustamente è stato evocato dalla Morselli ora potrei dire un altro miliardo di cose ma è meglio che c'è una riunione che ha citato Giacomo poco fa una riunione un incontro che abbiamo dovuto fare via Teams per ragioni legate alla situazione pandemica e che ci ha fatto incontrare quindi sulla piattaforma Teams per parlare del lavoro e questa è una cosa importante importante e anche non così frequente cioè che lo storico dell'arte si confronti con il diagnosta e con il restauratore e con lo studioso di fonti in questo caso avete appena sentito parlare Giacomo per arrivare a condividere le informazioni è un tema su cui ha insistito molto Raffaella cioè l'idea di condividere le nostre informazioni e di cercare insieme una soluzione quindi abbiamo parlato di datazione abbiamo parlato di modelli di come appunto dipinge il guercino abbiamo visto le immagini che ora vi farà vedere Martina quindi queste immagini ad altissima definizione che abbiamo realizzato nel novembre del 2019 con lo staff del laboratorio diagnostico del dipartimento di beni culturali dell'università di Bologna quando siamo andati nel casino Ludovisi appunto e grazie all'ospitalità di Rita Boncompagni Ludovisi della principessa Ludovisi siamo riusciti a fare questo lavoro abbiamo avuto un trabatello che ci ha consentito di arrivare proprio sotto le pitture murali di vederle da vicino ed è stato un momento bellissimo anche questo cioè l'emozione di vedere Guercino da vicino di vedere il disegno di vedere la traccia dei cartoni di vedere questo disegno liberissimo a lapis che lui fa nella fama con l'onore e la virtù insomma è stata veramente una grande emozione ma come dicevo poco fa e mi sono persa è stata una grande emozione anche questa riunione che ha visto professionalità diverse confrontarsi parlare discutere insomma è veramente stato nel complesso un lavoro molto importante molto interessante noi dell'università di Bologna l'abbiamo fatto nell'ambito di un progetto di cui vi ho già parlato tante volte perché io sono un abitue e qui sono sempre qui e quindi questo progetto Guercino oltre il colore di cui abbiamo parlato che abbiamo iniziato nel 2017 con la mostra di Piacenza quindi l'idea di analizzare le opere del Guercino dal punto di vista diagnostico cercando di capire come dipingeva che cosa c'è sotto la pittura che pigmenti usa che supporti usa insomma tutte queste domande queste sono tutte le domande che ci siamo posti e che abbiamo continuato a porci anche nel caso di una pittura murale come questa che come avrete capito non è un affresco ma è una pittura mista che prevede anche una parte a secco e di cui vi parlerà adesso con così con tanti particolari in più Martina e dunque sì grazie alla collaborazione con l'Umiate Technology grazie anche al supporto della fondazione MAU della fondazione di Sir Dennis MAU che ci ha appoggiato che ci ha sostenuto in questo lavoro e anche grazie al supporto della Rutgers University del New Jersey Stati Uniti siamo riusciti a completare l'indagine ora per non rubare troppo tempo anche perché siamo andati un po' lunghi ed è tardi lascio la parola a Martina grazie mille a tutti mi sentite allora entriamo subito nel clou allora le indagini tecnico-scientifiche che abbiamo svolto sull'Aurora e la fama con l'onore e la virtù sono state condotte come ha detto come ha ricordato la professoressa Gelfi che ringrazio nell'autunno del 2019 e sono state condotte dal team del laboratorio diagnostico del Dipartimento di Peni Culturale dell'Università di Bologna in collaborazione con l'Unier Technology e a proposito di team ci terrei a presentarvi sin da subito i membri della squadra che sono qui stasera con me che sono la dottoressa stracitata Chiara Matteucci l'ingegner Pascal Cotte i miei colleghi Gaglia Tarantola Salvatore Andrea Picella e Pascuale Stent che avete già sentito parlare le analisi nel casino Vodovisi sono state concentrate nell'arco di una settimana che mi intende per molto breve e hanno riguardato i due cicli decorativi posti uno al piano terra e il secondo al piano nobile le quadrature del tassi gli inserti e le lunette per un totale di 150 metri quadri quindi immaginatevi quanto lavoro in pochissimo tempo le tecniche applicate sono state gli immagini di un tispettrale le tecniche videomicroscopiche le analisi chimiche non invasive e portatili e quelle su sezioni stratigrafiche al fine di rendere più agevole la comprensione dei risultati delle indagini che andrò adesso a presentarvi molto brevemente è importante innanzitutto comprendere le differenze fra le varie pratiche di pittura murale che sono distinguibili essenzialmente in quattro categorie abbiamo la pittura a buon fresco quella a calce a tempera ausiliaria e a secco se di centrare poi nel dettaglio dal punto di vista pratico la differenza tra queste tecniche che vi ho elencato risiede innanzitutto nel tempo di esecuzione i primis e poi nella relativa possibilità degli artisti di apportare correzioni in corso d'opera mentre infatti nell'estremo caso della pittura fresco ogni fase del processo deve essere attentamente progettata e invaiata dall'artista in quanto l'intonaco assorbendo velocemente il colore riduce notevolmente i tempi di esecuzione e richiede quindi all'artista un procedimento molto rapido e senza errori impedendogli di fatto di apportare delle correzioni in corso d'opera per quanto riguarda invece l'estremo posto dato invece dalla pittura a secco questa presenta diversi vantaggi come per esempio l'utilizzo di una più ampia gamma di pigmenti o ancora la verifica immediata della tonalità del colore cosa che è del tutto impossibile per quanto riguarda l'affresco perché nel momento stesso in cui l'affresco si asciuga il colore cambia la sua tonalità e infine la possibilità di effettuare delle correzioni in corso d'opera coprendo o raschiando il colore tutti questi aspetti sono degli aspetti tecnici che guidano gli artisti nella scelta di una pratica piuttosto che un'altra una prima parte del nostro intervento all'interno del volume è stata quindi dedicata alla descrizione del contesto storico-tecnico all'interno del quale si inseriscono i pittori emiliani contemporanei del guercino in questi anni infatti gli artisti si trovano a confrontarsi con la decorazione di anticicli figurativi che decoravano gli enormi saloni delle famiglie più in vista e si trovano anche a sfidare un rinnovato gusto per una concezione illusionistica dello spazio dipinto è evidente come queste esigenze e la grandezza e l'ampiezza di questi spazi rendessero pressoché impossibile agli artisti l'impiego del solo buon fresco la pittura fresco infatti prevede i tempi di stesura degli intonaci i tempi di attesa della stesura dell'asciutatura di questi intonaci la realizzazione dei cartoni la trasposizione dei disegni preparatori tutti aspetti che rendevano la decorazione di questi ampi saloni molto laborioso e lungo quindi già a partire dalla metà del XVI secolo si è potuto rilevare da parte degli artisti una predilezione diciamo per le tecniche a secco o miste che erano selezionate dagli artisti in base al gusto in base a quelle che erano le richieste della committenza e soprattutto in base alle esigenze pratiche dell'artista stesso nel volume sono presenti numerosi esempi tra i quali merita di essere ricordato in assoluto quello di Guidoreni Guidoreni che nel 1616 decide di rinunciare ad affrescare Villa Favorita a Mantua a causa di quelle che lui chiama infirmità mortali che già altre volte aveva patito nel dipingere a fresco o ancora un altro esempio molto importante è quello di Carlo Cignani che preferiva affidarsi per velocizzare la pittura a fresco al suo allievo Marco Antonio Franceschini in quanto appunto la pittura a fresco poco si confaceva al modus operandi di Cignani molto lento e meticoloso non deve stupire quindi che anche Viorcino allo stesso modo dei suoi contemporanei fosse poco incline a utilizzare Tucur la tecnica da fresco a questo proposito un'attenzione particolare è stata dedicata all'interno del volume alle diverse tecniche di pittura murale impiegate da Guercino nel corso della sua carriera artistica e diciamo i dati sono stati desunti tanto dalle fonti e dalla bibliografia edita quanto dai risultati delle indagini svolte nell'ambito del nostro progetto come per esempio nel caso dello studio dei dipinti murali di casa Provenzali e dei lacetti di casa Benotti per quanto riguarda poi finalmente diciamo il casino Ludovisi dalle indagini in imaging multispettrale in XRF e dallo studio stratigrafico è emesso come Guercino abbia fatto ricorso anche lui a una tecnica mista caratterizzata dall'impiego di leganti di varia natura come calce e olio che consentiva all'artista di poter apportare correzioni in corso d'opera in accordo con la sua natura istintiva e spontanea per quanto riguarda poi i pigmenti impiegati dall'artista è emerso non solo l'utilizzo di pigmenti compatibili con l'affresco come per esempio le ocre lo smalto e la terra verde ma anche l'impiego di vari e propri composti principalmente a base di piombo che erano del tutto incompatibili con la basicità della caccia della malta e che quindi potevano essere utilizzati esclusivamente mediante una pittura a secco ed è il caso ad esempio del minio dell'orbimento e della biacca per quanto riguarda poi il processo creativo dell'artista che è relativo tanto all'ideazione quanto all'esecuzione delle sue opere attraverso le immagini in infrarosso è stato possibile osservare come Guercino utilizzi il disegno preparatorio solo per le linee di contorno principali delle sue figure linee di contorno che spesso venivano ripensate dall'artista e modificate in corso d'opera Guercino poi realizza un disegno prevalentemente a mano libera sia mediante appunto mezzo secco che attraverso il mezzo fluido nel volume ovviamente troverete molteplici esempi ma in questo caso abbiamo deciso di presentarne soltanto pochi ovviamente innanzitutto vedete questo disegno preparatorio tracciato a mano libera in una parte del profilo alare della fenice purtroppo ho notato che non si vede il mouse mi spiace però ci sono le frecce ancora appunto nelle punte della corona retta dal putto nella fama che vengono proprio ripensate quindi le frecce vi indicano le punte che non sono state poi dipinte da Guercino e per quanto riguarda invece l'aurora il disegno a mano libera possiamo osservarlo nella costruzione delle parti anatomiche del volto quindi potete vedere delle linee sia in corrispondenza della costruzione delle palpebre o ancora nella costruzione del naso e della bocca non mancano però dei casi in cui il disegno risulta trasportato da Guercino da un cartone preparatorio al supporto murale attraverso la tecnica dello spolvero è il caso ad esempio della gamba destra e dell'ala sinistra del putto che regge la corona le frecce dimostrano i tipici dots quindi i puntini che caratterizzano la tecnica dello spolvero un altro esempio eclatante è in assoluto il piede della fama al piano nobile dove troviamo sia dei tentativi di posizionamento del piede realizzati a mano libera che abbiamo indicato con delle frecce nere che appunto dei segni di spolvero che invece abbiamo indicato attraverso le frecce rosse e per quanto riguarda l'aurora abbiamo deciso di presentare l'esempio della zampa posteriore del cavallo in primo piano che traina il carro della dea un'ultima parte del nostro contributo è stata poi dedicata allo stato di conservazione dei due cicli pittorici parte che in assoluto abbiamo portato avanti attraverso l'aiuto del nostro restauratore il dottor Fabio Bevilacqua che non avevo nominato prima e che ci venevo a nominare adesso e in particolare le riprese in UPI hanno messo in luce la presenza di gravi fratturazioni che interessano però soprattutto la volta del piano nobile queste fratturazioni sono state per la maggior parte reintegrate e risarcite nel corso di uno o più restauri precedenti nel tempo e la risposta in UPI di questi risarcimenti è una risposta di colore scuro e potete osservarli sia appunto sulla frattura che sale al di sopra del putto che incorona l'aurora guardate l'immagine dove c'è scritto UD quella lì o ancora o ancora per quanto riguarda la frattura che risale verso il volto dell'onore quindi potete osservarla sempre nell'immagine UD è la frattura appunto più lunga che arriva fino alla guancia dell'onore dopodiché lo stato di ammaloramento del pacchetto in tonaco sta creando anche una serie di distacchi e sollevamenti della pellicola pittorica che potrebbero potenzialmente condurre anche alla caduta di ampie porzioni del dipinto ovviamente con una grave perdita della superficie dipinta le aree evidenziate poi attraverso una fluorescenza azzurra chiara che potete trovare sia sulla guancia dell'onore che su quella della virtù indicano poi la presenza di fluorescenze saline fluorescenze saline che non fanno altro che sbiancare in un certo senso la superficie pittorica una situazione un po' più complessa è quella che abbiamo osservato invece al piano nobile sulla parete orientata a sud e sulla sovrastante parte della volta l'esame autoptico infatti ha rilevato un'estesa area ammalorata dalla percolazione e dall'assorbimento di acqua imputabile principalmente a perdite provenienti dalle tubature relative al piano superiore che hanno comportato la creazione di formazioni saline come solfato di talcio di grato di gore e di attirazioni cromatiche che inizialmente interessavano quasi esclusivamente la decorazione architettonica del tassi ma che adesso nel corso della nostra ultima visita all'interno del casino abbiamo visto ampliarsi anche un'ampia porzione della volta per concludere quindi concludo con dire che l'utilizzo da parte del vorcino di una tecnica mista già osservata in altri cicli decorativi è la preferenza dell'artista per un disegno a mano libera tutti gli aspetti che siamo riusciti a documentare solo ed esclusivamente grazie all'utilizzo delle analisi di amniostiche ovviamente riflettono la necessità e la volontà di porcino di utilizzare delle tecniche più immediate rispetto alle rigide procedure della fresco in accordo diciamo con la sua natura istintiva e spontanea che tanto bene era stata descritta appunto da Carlo Cesare mandatia vi ringrazio per l'attenzione e per essere rimasti fino alla fine grazie mille grazie ancora è ora di cena quindi faremo una conclusione velocissima non senza ringraziare tantissimo Barbara Gelfi che davvero è sempre qui con noi e sarà qui con noi fra meno di una settimana di nuovo mercoledì 7 alle ore 21 quindi dopo cena avremo la possibilità di vedere insieme il video che è già uscito su Sky noi lo vediamo in maniera un po' riservata insieme al curatore della serie e a Barbara Gelfi che inevitabilmente è sempre con noi perché è l'esperta che è presente anche all'interno di questo video sarà un'occasione non solo per condividere una visione insieme nella quale emerge anche molto bene la nostra città oltre che naturalmente tutti i contenuti che riguardano Guercino anche altrove ma anche per ragionare su come in una serie di questo tipo di documentari per una televisione generalista viene comunque presentata l'arte come anche attraverso delle tecniche più contemporanee di narrazione si può valorizzare la conoscenza della storia dell'arte un grande ringraziamento non solo alle senior ma anche ai giovani studiosi perché è un obiettivo per noi assolutamente condiviso e condivisibile quello di valorizzare le competenze che stanno maturando e che in questo caso sono già perfettamente mature mi sentirei di dire e quindi è molto bello insomma vedere questa sinergia tra generazioni che è fondamentale ringrazio anche l'assessore Silvia Bidoli che è arrivata dopo perché sta lavorando molto intensamente ma per consentirci di avere proprio dopodomani una bella emozione sono sicura che Cristina e Gianni Fava la pensano come me perché con la riapertura di San Lorenzo potremo finalmente vedere in pubblico anche in un bel allestimento all'interno della Pinacoteca provvisoria il dipinto di Paolo Antonio Barbieri Natura Morta con argenti e paramenti sacri che è stato donato e che era lì in attesa di incontrare il pubblico è proprio un regalo di Natale una piccola epifania possiamo vederlo condividerlo e goderlo oltre ad essere stato effettivamente un regalo perché è un dono un fatto dall'associazione Amici della Pinacoteca e Imprenditori per la Cultura quindi una città che conferma la voglia di stare insieme e anche di dare molta concretezza alle nostre passioni grazie e buona serata a tutti grazie grazie a tutti